Musica Buongiorno, prima edizione del telegiornale che apriamo parlando inevitabilmente dell'Etne Durata 7 ore circa la nuova ed intensa attività eruttiva del vulcano con fuoriuscita di lava ed emissione di cenere vulcanica ricaduta su Catania Per gli esperti dell'INGV si tratta di normale attività del vulcano destinata a ripetersi ancora Nella tarda mattinata l'attività eruttiva e l'alta colonna di cenere si sono placate L'intensa attività iniziata alle 4 del mattino lentamente si sta esaurendo Sabbia vulcanica ricaduta copiosa su Catania e voli momentaneamente sospesi all'aeroporto Fontana Rossa con inevitabili disagi nelle partenze e arrivi Dall'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia chiariscono gli esperti che la nuova spettacolare fontana di lava Dalla cratere Voragine e trabocchi della Bocca Nuova ha avuto inizio nelle mattinate con tremori e forti boati udibili a centinaia di chilometri di distanza Il pennacchio di cenere ha raggiunto i 7.000 metri di altitudine A misurazione effettuate con l'ausilio dei satelliti con venti in quote che hanno spostato sulla città a Capolò con la ricaduta di cenere vulcanica Tutto nella normalità spiegano i vulcanologi che monitorano la situazione e costantemente tengono sotto stretta osservazione anche lo stromboli Che nelle settimane scorse ha prodotto una sostenuta attività stromboliana Al momento nella Ciperago eoliano la situazione è nella normalità I due crateri non sono collegati in quanto alimentati da diverse camere magmatiche L'attività eruttiva dell'Etna ormai classificata come persistente continua ad alternare fasi eruttive anche violente e periodi di relativa calma Anche se nelle profondità il fenomeno rimane piuttosto sostenuto con repentine risalite di lava ed emissioni di cenere L'Etna c'era prima di noi ci sarà anche dopo pertanto dobbiamo conviverci e abituarci a questi continui cambi di umore del vulcano attivo più alto d'Europa Ormai l'Etna è sempre una stata di attività in realtà perenne fa stati di quiescenza per poi riprendere anche in maniera improvvisa Questo ciclo diciamo questa attività è ripresa a metà giugno 13-14 giugno Si è intensificata gradualmente per poi andare in escalation con l'attività di Fontana del 4-5 luglio E poi è stata tutta una fase di quiescenza e ripresa dell'attività Oggi è tra una settimana, un paio di settimane si è associato anche il risveglio del Cratero di Nord-Est Che sta alimentando una piccola attività intracraterica e qualche esplosione anche di cenere Quindi per dire che anche lui sta rientrando nell'attività dell'Etna Mattinata di passione per numerosi viaggiatori all'aeroporto Fontana Rossa di Catania Tra cancellazioni e dilottamenti dei voli legati appunto alla caduta della cenere vulcanica In un periodo particolarmente intenso come quello vacanziero Sentiamo L'eruzione dell'Etna accompagnata da forti boati e dall'accopiosa emissione di cenere vulcanica Ha generato notevoli disagi anche al traffico aereo dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania La situazione è particolarmente critica perché verificarsi nel pieno del pire d'estivo All'apice del traffico aereo ha trasformato le ambite ferie in un vero e proprio incubo per tanti malcapitati Sono venuta a riprendere mio figlio che doveva andare a Milano stamattina per andare a partecipare a un concerto Ed è rimasto qui in aeroporto È stata una pioggia di cenere che ha poi portato alla chiusura della pista Diciamo la pioggia è durata pochissimo, 10 minuti alla fine, però il disagio è enorme Penso riusciranno a ripristinare presto se le condizioni rimangono queste, però intanto hanno annullato tutti i voli Quindi con i conseguenti disagi Dopo la sospensione dell'operazione di decolle a terraggio, infatti, l'impianto si è trasformato in un luogo di bivacco Per molti passeggeri Tra chi avvise i propri cari in videochiamata e chi prova a reperire maggiori informazioni dalle compagnie aeree di riferimento La chiusura temporanea di due settori di spazio aereo B2 e B3, a causa dell'inagibilità della pista Ha messo a dura prova la pazienza di numerosi viaggiatori Protagonisti, loro malgrado, di una mattinata complicata Malissima, malissima la cosa Io ho un appuntamento medicale il giorno 25 Come faccio per essere un udottore? In attesa della completa rimozione della sabbia vulcanica dalle infrastrutture aeroportuali Sono moltissimi i turisti che avevano programmato le loro vacanze in Sicilia O che intendevano fare ritorno a casa dopo aver visitato l'isola E che invece si sono ritrovati a dover affrontare ritardi, cambi di programma e la necessità di riprenotare i voli alloggi Con un notevole dispendio economico non preventivato Da dove arrivate? Noi arriviamo da Torino, avevamo il volo per andare appunto a Caselle Ma c'è stato cancellato stamattina Quindi adesso siamo dirottati a Palermo Aspettiamo il pullman che sarà verso il tardo pomeriggio E avremo il volo poi domani mattina alle 6 E quindi passeremo la notte a Palermo Quante ore di ritardo già avete accumulato? A noi ce l'hanno di ritardo tante Almeno cancellato alla fine dopo un'ora di ritardo Quindi sì sì, la situazione è un po' drastica E l'ennesima eruzione dell'Etna è vissuta ad alta quota Siamo andati ai Crateri Silvestri dove i boati della Bocca Voragine stupiscono soprattutto i turisti La voce del vulcano cattura l'attenzione dei tantissimi turisti Per lo più stranieri che questa mattina hanno percorso i coni lavici dei crateri silvestri Etna, patrimonio dell'UNESCO, una delle mete naturalistiche e paesaggistiche più importanti d'Europa Nelle scorse ore, a poche centinaia di metri da qui, il cratere Voragine ha eruttato lava, sabbia e fumi Uno spettacolo per i tantissimi che hanno potuto ammirare la potenza del vulcano attivo più alto d'Europa A metà mattino, esauritasi la fase parossistica, non o prima, di due fragorosi boati che hanno fatto tremare anche le sommità vulcaniche E intorno alle 10 i turisti continuano a solcare la lava, scattare selfie, registrare video Nessuno ha paura della voce del mungibeddu No, anzi, è piacevole perché è una cosa, non è che si sente tutti i giorni, noi venendo dalla Puglia No, sinceramente è anche molto piacevole Stamattina ci siamo svegliati, abbiamo aperto il finestrino del camper, quindi abbiamo sentito più che altro questo rumore Poi un po' siamo rimasti impressionati dalla polverina che avevamo sul camper No, assolutamente no Da dove viene? Dalla Russia Dalla Russia, è la prima volta sull'Etna? No, non sono la prima volta sull'Etna Un'attrazione più grande per la Sicilia, una dei più grandi per la Sicilia è Etna Sì, sicuramente, ne ho visto di tutte le nazionalità, olandesi, anche del Montenegro, tedeschi Sì, sicuramente per loro che sono qui e si trovano in concomitanza con l'eruzione, dovrebbe essere una cosa fantastica Però poi cade la sabbia Neanche, piacevole anche quello Però non lo dica lei a chi è che è il residente in zona Sicuramente loro soffrono, però visto da fuori una volta nella vita è piacevole, è particolare, capisci che sia la natura Cambiamo argomento, la cronaca adesso, le immagini di una rapina inchioderebbero un 32enne che si è introdotto in due gioiellerie a volto scoperto L'uomo è finito in carcere, con sé aveva anche una pistola Quei tatuaggi così particolari a vista, facilmente riconoscibili e poi quei due colpi messi a segno a volto scoperto in due distinte gioiellerie del centro storico di Catania Dove le telecamere di videosorveglianza, interne ed esterne, hanno catturato ogni istante ricostruendo frame dopo frame quanto accaduto Tutte imprudenze che hanno incastrato Mirko Natale Fusto, 32 anni, arrestato dalla Polizia di Stato In applicazione di un'ordinanza emessa dalla Procura Distrettuale della Repubblica Ecco le sequenze che lo inchioderebbero, due rapine commesse da solo a bordo della moto che, vedete, parcheggia davanti all'attività commerciale Si introduce all'interno e dopo una rapida visione di alcuni gioielli, oltrepassa il bancone con una pistola Aggredisce la negoziante, approfittando di una sua distrazione Raccoglie tutto l'oro che può, nella prima rapina per un valore di 220 mila euro Nella seconda, un bottino, si fa per dire più magro di 60 mila euro Gli episodi in successione, il 16 aprile ed il 10 maggio scorsi Il reato, rapina aggravata dall'uso delle armi Fusto, trasferito alla casa circondariale di Piazza Lanza In Adarci Castello, lo scorso 30 giugno, la incredibile azione compiuta da un pregiudicato avvolto scoperto L'uomo è finito in carcere, si era introdotto in due... aveva, scusate, aveva commesso dei furti in appartamento E si era poi gettato in mare, nel tentativo di sfuggire ai carabinieri che lo braccavano e poi lo hanno bloccato Una donna si affaccia dal balcone, vede che le stanno rubando la bicicletta e avvisa immediatamente i carabinieri Loro raccolgono la descrizione del malvivente Scopriranno che si tratta di un 52enne che sarà arrestato per tre furti eppure per resistenza a pubblico ufficiale Intanto l'uomo, quella bicicletta, decide di non rubarla più Spaventato dall'allarme dell'abitazione che nel frattempo ha cominciato a suonare Le forze dell'ordine si mettono sulle sue tracce e alla fine lo beccano in mare Nel vanno tentativo di confondersi tra i bagnanti Ma è una giornata che ha dell'incredibile quella che Adacicastello ha avuto come protagonista lo scorso 30 giugno Il pregiudicato, peraltro già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere Emessa dal Tribunale di Catania Da via Livorno ad una fermata dell'autobus Qui l'uomo, dopo aver capito di essere braccato dai militari Aveva abbandonato un sacchetto con dentro gioielli e smartphone rubati presumibilmente prima Poi si era diretto in uno stabile abbandonato Ma anche lì i carabinieri sono arrivati Quindi la decisione di raggiungere la spiaggia piena di gente Spogliandosi anche dei vestiti per cercare di nascondersi tra la folla e infine gettandosi in mare La rocambolesca fuga però non gli è servita a nulla Perché i carabinieri, grazie all'azione di coordinamento della centrale operativa 10 Reale Che ha inviato loro in supporto altre pattuglie presenti in zona E grazie anche alla collaborazione di alcuni cittadini Che hanno segnalato i tentativi dell'uomo di mimetizzarsi tra loro all'uscita dell'acqua Sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma Torniamo adesso su un episodio di qualche giorno fa E' accusato di omicidio ma anche di tentativo di omicidio Salvatore Sant'Angelo, 46 anni Fermato dai carabinieri nell'ambito dell'indagine Sull'uccisione del ventenne Antonio Andolfi Assassinato lo scorso 19 luglio nella sparatoria Avrebbe rischiato di colpire un'altra persona rimasta illesa A contestare i capi di imputazione Compresi il porto legale di arma da fuoco E' stata la procura di Catania che ha coordinato le indagini dei militari dell'arma di Paternò Della stazione di Biancavilla Quella della stazione investigazioni scientifiche del nucleo del comando provinciale Secondo quanto ricostruito dalla procura distrattuale atenea La sparatoria sarebbe avvenuta tra Centuripe in provincia di Enne E Biancavilla in provincia di Catania Dopo una discussione tra i due per la disputa Per quanto riguarda il pascolo L'uomo poi era fuggito a bordo della propria auto Quindi la sparatoria con l'uomo che è stato ferito mortalmente Adesso l'esito di quanto avvenuto E adesso andiamo a Palermo Inizia il rimpasto di giunta regionale Con Alessandro Dagnino Che è il nuovo assessore all'economia della regione siciliana Avvocato tributarista Dagnino prende il posto di Marco Falcone Eletto al Parlamento europeo Il governatore Renato Schifani Ha firmato stamattina il decreto di nomina Alessandro Dagnino Avvocato cassazionista di 48 anni E il nuovo assessore regionale all'economia Sono veramente onorato della fiducia ricevuta dal presidente della regione siciliana E consapevole degli oneri di un incarico così delicato Che porterò avanti con impegno e determinazione al servizio del popolo siciliano Sono queste le prime parole che il neossessore rivolge attraverso un posto su Facebook Ai siciliani dopo le dimissioni di Marco Falcone Eletto all'Europarlamento Noto avvocato tributarista Dagnino E docente di diritto tributario dell'impresa e del terzo settore Presso l'Università degli Studi L'Umsa Svolge inoltre attività di consulenza in materia fiscale In favore di società italiane, gruppi multinazionali e istituti finanziari La rivista statunitense Forbes ha inserito il suo nome nell'elenco dei 100 Italian Legal Leaders Per poter entrare nel pieno delle proprie funzioni Dagnino dovrà attendere il giuramento davanti l'Assemblea regionale siciliana Previsto con molta probabilità giovedì pomeriggio La sostituzione degli assessori non si conclude qui Dopo che il riesame ha confermato la sospensione degli incarichi pubblici per il leghista Luca San Martino Adesso c'è da coprire il posto alla guida dell'assessorato dell'agricoltura vacante ormai da aprile Il nome che circola è quello di Salvatore Barbagallo Si attendono poi notizie in merito al turnover in Casa Fratelli d'Italia che dovrebbe indicare il sostituto di Elena Pagana, attuale assessore al territorio e ambiente La gestione dei rifiuti nella discarica palermitana di Bellolampo finisce nel mirino della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti Si è tenuto ieri un sopralluogo a Bellolampo e un vertice nella prefettura per fare il punto su queste criticità Un impianto di trattamento dei rifiuti che funziona a singhiozzo Reiterati incendi in discarica, una raccolta differenziata ferma al 15% La gestione dei rifiuti a Palermo finisce sotto la lente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti Ieri una delegazione composta dal Presidente Jacopo Morrone e da altri quattro commissari ha effettuato un lungo sopralluogo alla quarta e quinta vasca di Bellolampo Al termine della visita in discarica e delle audizioni in parte secretate i membri della Commissione di inchieste Comafia hanno preso parte ad un vertice in prefettura Ci risultano essere da diversi anni degli incendi periodici o comunque il malfunzionamento o il non funzionamento del TMB E una città come Palermo, un comprensorio come Palermo non merita sicuramente a gestione, questo tipo di gestione Nel senso che ci risulta essere una delle città con la peggiore raccolta differenziata Si parla del 15% quindi sicuramente bisognerà migliorarsi nei comuni sopra 200.000 abitanti naturalmente E abbiamo trovato una situazione dove in itinere ci sono stati dei buoni propositi Le termocamere piuttosto che queste nuove costruzioni o strutture che dovranno migliorare la gestione dei rifiuti Quindi noi abbiamo ascoltato, abbiamo un filone d'inchiesta sul sistema rifiuti in Sicilia E quindi potremmo verificare se quelle che oggi sono parole diventeranno poi dei fatti concreti E noi vigileremo su questo, abbiamo chiesto documentazione Anche per scongiurare l'infiltrazione della criminalità organizzata appunto nel sistema rifiuti Dopo quanto visto e appreso stileremo una relazione insieme ad ARPA e ai carabinieri del NOE Fanno sapere deputati e senatori della Commissione Nazionale d'Inchiesta Intanto a Palermo non si fermano gli incendi di rifiuti La scorsa notte diversi roghi hanno interessato alcuni quartieri in periferia dove la raccolta è andata a rilento L'assessore comunale all'ambiente Pietro Alongi ha assicurato che l'impianto tornerà a regime giovedì prossimo Paura stamattina a Santa Maria della Stella, frazione di Aci Sant'Antonio per l'incendio in una manzarda, vediamo Il fumo nero, la puzza di bruciato, le fiamme che si levano alte nel cielo Via Antonio Maugeri, poco prima delle 12 del mattino di oggi, frazione Sant'Antonese di Santa Maria della Stella Un incendio devasta una manzarda di una delle palazzine di un unico complesso residenziale In fretta e furia chi risiede in quella palazzina scappa via di casa L'edificio viene immediatamente evacuato dai carabinieri della Compagnia 10 Reale che per prime arrivano sull'opposto Nel frattempo però le fiamme distruggono la manzarda, minacciano di trasbordare verso altri edifici C'è paura tra residenti e passanti, arrivano le ambulanze del 118, la polizia locale, quindi i vigili del fuoco Non si ha notizie allo stato di persone ferite né di intossicati per fumo Come iniziano le operazioni di spegnimento, rese difficoltose proprio dalla ubicazione dello stabile Alla cui sommità si è sviluppato l'incendio Si sconoscono al momento le cause che hanno originato il rogo E adesso parliamo di calcio con il Catania che prosegue il suo ritiro ad Assisi In terra Umbra sta nascendo la squadra che fa già sognare i tifosi Abbiamo raccolto le impressioni del tecnico toscano dopo la prima uscita in amichevole Prosegue nella quieta di Assisi il ritiro precampionato della Catania Football Club La squadra affidata alle cure tecniche di Mimmo Toscano punta ad un campionato da protagonista Tanti gli acquisti importanti già effettuati dalla dirigenza rossa-azzurra In attesa che l'organico venga sfoltito dai calciatori in sovrannumero L'ex lanatore della Cesena punta soprattutto sull'affiatamento del gruppo E prende per buoni gli spunti già manifestati in occasione della prima uscita contro l'Assisi Di qualche giorno addietro Vedo grande disponibilità da parte dei ragazzi Si sta facendo fatica Nonostante i carichi di lavoro fossero pesanti C'è tanto ancora da lavorare Partiamo da una base della passata stagione Dove bisogna alzare il livello per poter colmare il gap con le squadre competitive E diventare una squadra che competirà fino all'ultima giornata con le altre Però vedo un buon atteggiamento che dobbiamo mantenere e migliorare giorno dopo giorno Stiamo lavorando su questo aspetto Di coinvolgere tutti i calciatori di movimento nelle due fasi Sia nella fase di possesso e nella fase di non possesso Si sono proposti bene soprattutto i difensori destri e il difensore sinistro Gli esterni sono andati al cross, sono andati anche alla conclusione Gli attaccanti hanno avuto tante situazioni da poter sfruttare meglio L'atteggiamento inizia ad essere quello giusto Dobbiamo andare da qui in avanti e migliorare giorno dopo giorno La prima cosa che ho detto ai ragazzi qui in ritiro Voglio una squadra che cerca sempre di migliorare e crescere sotto ogni punto di vista Come persona, come calciatore e come gruppo soprattutto Perché quello che costruisci qua te lo ritroverai durante il campionato Il 23 luglio di 19 anni fa il villa attentato di Sharmeshek in Egitto Dove perso la vita tra le vittime italiane anche Rita Privitera e Giovanni Conti Rispettivamente giornalista e cameraman di ReTV Con loro anche il fratello di quest'ultimo Sebastiano La moglie Daniela Maiorana Per quella maledetta estate Quando forti esplosioni ad opera di kamikaze Fecero decine di morti Con appunto la scomparsa di turisti Che si trovavano nei luoghi della movita notturna Quindi un caro ricordo per Rita e Giovanni Soprattutto in questo caso Ci fermiamo qui Finisce la prima edizione del nostro telegiornale Che potete seguire tra poco sul sito reTV.it Sui nostri canali social Il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta Più tardi a partire dalle 19.45 Ringraziamo in regia Manuela Musumeci Vi auguriamo il buon pomeriggio Ringraziamo in regia Manuela Musumeci Ringraziamo in regia Manuela Musumeci Ringraziamo in regia Manuela Musumeci